Non ti nego e non posso qui negare che da quando ci conosciamo abbiamo portato avanti questa nuova campagna con il funnel, abbiamo dovuto riorganizzare del tutto le nostre agende perché siamo letteralmente sommersi da numeri, da nuove richieste, da nuovi clienti e quindi dopo già il primo mese abbiamo dovuto riorganizzare la nostra attività quotidiana. Con molto piacere devo dire però è veramente un qualcosa che ci sta portando delle soddisfazioni se non altro una mole di lavoro che si è aggiunta a quella precedente ci fa capire insomma che stiamo prendendo delle direzioni diverse. Ciao Claudia e benvenuta sul mio canale YouTube che poi è anche un podcast che poi riciclo in mille modi questo contenuto, Claudia Alfano di Alfano Agency. Ciao Francesco, buonasera a te, buonasera a tutti. È un piacere per me essere qui e fare questa conversazione e parlare un po' ecco di di case, di cose di case. Di cose di case, di case, case acquisite, case vendute, casali. Esatto, case, casali e quant'altro. Ok, allora perché ho chiamato Claudia? Claudia è un'agenzia, fa parte di un'agenzia storia di Arpino che è iniziata a seguire a febbraio, no un po' prima, diciamo la campagna è partita a febbraio, noi ci siamo sentiti a settembre, settembre scorso. Quindi non è passato ancora un anno da quando ci siamo sentiti, la campagna è stata avviata, una campagna di acquisizione in carichi, è stata avviata a febbraio del duemilaventitré e oggi ci facciamo una chiacchierata, facciamo un po' il punto della situazione per capire quelli che sono che sono stati i risultati. Esattamente, molto bene. Ci vuoi intanto magari dire due parole sulla sulla tua agenzia per presentarti, per contestualizzare il mercato? Con piacere Francesco, allora noi siamo un'agenzia davvero storica che ormai proprio quest'anno tra l'altro compie il suo quarantesimo anno di attività perché abbiamo aperto nel 1983 con chiaramente il lavoro di mio padre che è stato poi portato avanti negli anni. Per riassumere, nell'ultimo periodo intendo dire almeno dal 2014 ci siamo focalizzati sulla valorizzazione dei borghi e quindi degli immobili che abbiamo nelle nostre bellissime zone. La ciociaria che è chiaramente un'area meravigliosa tra Roma e Napoli. Principalmente abbiamo diversi uffici, quello sul quale diciamo abbiamo puntato tantissimo è Arpino. Arpino ormai conosciuta se non altro non solo per la sua storia ma anche per le ultime vicende politico-culturali per cui stiamo ricevendo moltissimi visitatori da qualche mese a questa parte. Abbiamo un ufficio molto carino in piazza che è a disposizione dei nostri clienti stranieri. Il nostro focus da sempre, soprattutto nell'ultimo decennio, è sull'immobiliare, sulle trattative internazionali, quindi su un mercato estero che non è soltanto europeo ma è internazionale. Quindi abbiamo clienti da ogni parte del mondo ai quali offriamo la nostra ampia, devo dire, gamma di immobili situati su tutto il territorio, non soltanto Arpino. Quindi abbiamo immobili di varie tipologie prettamente storici, quindi che appassionano il nostro pubblico, ma nello stesso tempo abbiamo anche ville indipendenti con piscina, con giardino, villette, appartamenti con mista panoramica e soprattutto immobili in centro storico che abbiano delle caratteristiche particolari affrescati, con travi in legno, chiaramente con costruiti per esempio in pietra viva, tutti i dettagli che fanno innamorare i nostri clienti. Questo è quello che facciamo quotidianamente, quindi andiamo alla ricerca di immobili che abbiano un valore non soltanto per noi e quindi per i nostri clienti venditori che ci affidano i nostri clienti che ci affidano i loro immobili, ma soprattutto per il nostro pubblico internazionale che sceglie l'Italia per svariati motivi, non soltanto per le vacanze, ma anche per cambiare vita, per venire in Italia a vivere. Per venirci proprio a vivere. Per venirci. Esattamente, quindi per come si suol dire relocation, che non è poco. Ottimo, ok, bellissimo e infatti tu ti ricordi quando ci sentimmo prima ancora di iniziare a collaborare, ti avevo già anticipato che mi piaceva quello che vedevo e che secondo me avremmo potuto fare un bel lavoro, perché c'è bisogno del cavallo e del fantino, come dico sempre, quindi bisogna avere tutte e due le cose e in effetti dai numeri che mi hai detto poco fa c'è da ridere, c'è da divertirsi, poi racconteremo qualche numero, qualche numero. Però prima di arrivare ai numeri e al vil denaro, volevo parlare un po' del prima, cioè prima di fare questa cosa, prima di conoscermi, che cosa facevate lato marketing e in particolare per l'acquisizione di incarichi? Allora, diciamo che tendenzialmente la nostra struttura interna è stata sempre molto focalizzata sull'acquisizione che è da sempre il nostro grandissimo cavallo di battaglia. Sappiamo bene che un agente immobiliare che possa così essere definito deve essere bravissimo nell'acquisizione, più che per tutto quello che viene successivamente, ma l'acquisizione è sempre stata esatto, un nostro punto forte. Quindi abbiamo pensato, chiaramente prima di conoscerti ci siamo sempre focalizzati sull'acquisizione che per tanti motivi, devo aggiungere fortunatamente, nel tempo arrivava molto spesso in maniera indiretta. Perché? Per referral, per passaparola, perché siamo comunque un'agenzia per quanto locale ma estremamente conosciuta. E quindi, se abbiamo lavorato bene negli ultimi anni, questo ci torna sicuramente in maniera del tutto positiva. Abbiamo lavorato molto sul territorio, ma ci siamo mossi negli ultimi anni, come ti dicevo, anche grazie ai social, con delle varie campagne che abbiamo portato avanti. Nulla di prettamente, diciamo, organizzato, ma soprattutto progettato, come invece stiamo facendo adesso, da quando chiaramente ci siamo conosciuti e stiamo collaborando su questo aspetto. Come ti dicevo, anche prima di conoscerci, i nostri numeri erano particolarmente alti. Non ti nego e non posso qui negare che da quando ci conosciamo e abbiamo portato avanti questa nuova campagna con il funnel, abbiamo dovuto riorganizzare del tutto le nostre agende perché siamo letteralmente sommersi da numeri, da nuove richieste, da nuovi clienti e quindi dopo già il primo mese abbiamo dovuto riorganizzare la nostra attività quotidiana. Con molto piacere, devo dire, però è veramente un qualcosa che ci sta portando delle soddisfazioni. Se non altro, una mole di lavoro che, se aggiunta a quella precedente, ci fa capire, insomma, che stiamo prendendo delle direzioni diverse in positivo. È bello, però ti mette sotto stress, no? Cioè, è una cosa inaspettata. Quindi, probabilmente, una delle domande era quali erano le tue aspettative, le tue aspettative non erano quello che poi si è verificato da quello che mi dici. Esatto. Ti posso dire... Perché... Dimmi. Sì, ti posso dire che le nostre aspettative erano sicuramente positive perché, ovviamente, sappiamo quanto sei professionale e quanto contiamo, ovviamente, sulla tua esperienza, però, d'altra parte, fino a quando non vedi, come si suol dire, non credi. E quindi, sì, le nostre aspettative sono state ampiamente, ecco, soddisfatte, anzi, forse oltre quello che potevamo immaginare. Sono contento. Non è la prima volta, fortunatamente, che mi succede. Questo è bello. Quando un cliente ti dice ho dovuto prendere persone in più, ho dovuto comprare l'agenda nuova, vuol dire che il marketing sta funzionando. E se acquisite vuol dire che siete anche voi bravi ad acquisire, perché non è un dettaglio da poco, cioè non è finita, nel senso che nel momento in cui, sì, ti arriva la notizia qualificata, educata dal funnel, ma devi anche essere bravo poi a chiuderla. E mi ricordo il caso studio di un costruttore che ebbe lo stesso problema, cioè sì, facciamo la campagna. Cioè, in una settimana ha dovuto di corsa, non aveva chiamato nessuno, erano arrivate decine di contatti, perché non immaginava, non si aspettava la mole, la mole dei contatti. Ok, quindi, diciamo, le aspettative lo abbiamo visto e ok, va bene, sei contenta, abbiamo capito, poi vediamo anche i numeri, ripeto, mi fa piacere, altrimenti, ma chi ti avrebbe chiamato? Se non eri contenta, non ti chiamai. Bene, abbiamo, ecco, per assodato che questo è il punto di partenza e la soddisfazione di base c'è, altrimenti non eravamo qui. Cosa, cosa ti ha sorpreso nel dettaglio, cioè in particolare, di questo sistema? Allora, del sistema mi ha sorpreso sicuramente la qualità, la qualità delle richieste che abbiamo ricevuto, nel senso che è come se, grazie a questo sistema funnel, si scavalcassero, se non altro, almeno due o tre step fondamentali, che sono quelli chiaramente delle chiamate a freddo, del primo approccio, di tutta una serie di barriere psicologiche che si creano all'inizio tra il cliente che non ha mai visto l'agenzia di riferimento e viceversa. Ti devo anche dire che fortunatamente da questo punto di vista non abbiamo avuto mai problemi, però ti posso anche dire che in questo modo, grazie al funnel, abbiamo reso più rapido il percorso di acquisizione, perché appunto partendo con una richiesta che comunque è abbastanza concreta, nel senso che è già in un certo qual modo, ecco, prelavorata, anche se poi così indirizzata, ecco, indirizzata è la parola giusta, arriviamo a contattare il cliente e si crea da subito un'empatia, comunque un feeling molto positivo e maggiore rispetto a quello che potrebbe avvenire senza funnel, oltre al fatto che poi l'aspetto relativo, diciamo, all'approccio e a tutto quello che viene dopo, chiaramente come dicevi, spetta poi a noi. Però la cosa che mi sorprende è la, tra virgolette, passami il termine, facilità con la quale i clienti indirizzati a noi si affidano senza troppi né se né ma, il che va benissimo. Quindi questo ci aiuta e ci facilita un processo che, se normalmente può essere di una o due settimane prima della firma dell'incarico, in questo caso, in tre o quattro giorni, addirittura massimo una settimana, noi abbiamo la firma dell'incarico che riduce notevolmente le tempistiche. Una delle mie citazioni preferite di Peter Drager è che il marketing rende superflua la vendita, da questo punto di vista. Cioè, è importante il prodotto, poi se non c'è il prodotto, non c'è il servizio, non vendi, però abbassa di molto le barriere, no? Cioè, quella persona si fida di più. E' così. E' tutto lì. E' tutto lì. Diciamo, l'abbattimento delle barriere è evidente, si capisce dal primo messaggio, dalla prima telefonata, e nel momento in cui ci si vede, addirittura festa, nel senso aperitivo, pranzo, cena, tutto quello che può accadere, insomma. Quindi, molto positivo, c'è un'apertura, non dico totale, ma quasi, molto bella, devo dire, e che ci dà soddisfazione, senza dubbio. Ti saresti aspettata, tu quando ti ho detto, quando hai visto che il tuo video nel funnel, poi per chi ci sta ascoltando, poi vi metto un link per vedere come creo questo funnel, se volete capire di più. Ma ti aspettavi che un video di 40 minuti e passa sarebbe stato visto? No, in realtà no, semplicemente per quello che ci siamo sempre detti, perché sappiamo bene che l'attenzione selettiva ha un determinato tempo, e che 40 minuti di video non sono poi così pochi per uno che ovviamente vede un video, per quanto possa essere curioso, per quanto possa essere, diciamo, imitante quello che ascolta, ma 40 minuti sono veramente tanti, quindi no, non me lo aspettavo. Non te l'aspettavi, immaginavo, immaginavo, immaginavo. Eh, perché, perché succede quello che hai detto? Cioè, perché si azzerano i tempi, si accorciano i tempi e il cliente si fiede di più? Perché hai avuto il modo, il tempo e la sua attenzione di dirgli delle cose che normalmente gli dovresti dire a voce in più appuntamenti. Esattamente, mentre invece... E il rischio è che tante volte l'appuntamento neanche avviene, perché non si fida. Esatto, mentre invece adesso arrivo, mi aspettano con grande entusiasmo, ci conosciamo, il primo approccio davanti a... La voce è la tua, no, voglio, per gli ascoltatori... Sì. In questo video che abbiamo realizzato, c'è Claudia che parla, non si vede neanche in webcam, la voce è la sua. Quindi, se tu chiami, quando chiami tu hai un boost, cioè la persona già ti ha ascoltato per 40 minuti. È vero, è vero, infatti mi dicono spesso, ah, eccola, è lei, mi dicono, sì, sì, sono io, sono assolutamente io. Poi, capisci bene che anche deludere le loro aspettative non è possibile, quindi mi presento sempre al primo appuntamento per capire, per far capire loro che la voce ha dietro una persona e che questa persona esiste, soprattutto. Il prossimo lo facciamo con la webcam, eh? Bene, va bene, sono pronta. Ok, va bene, tutto bello, tutto carino, poi è importante quando si fa business guardare i numeri, perché i numeri non mentono mai. Esatto. E quindi andiamo a vedere un po', mi sono preso qualche appunto, non so, lo vuoi dire tu, poi magari io ho preso qualche appunto, ma tutte le ricordi a memoria. Allora, parliamo intanto di una campagna iniziata a febbraio 2023, abbiamo fatto una fotografia oggi, quindi dopo febbraio, marzo, aprile, maggio, quattro mesi e mezzo, dopo quattro mesi e mezzo, quanti incarichi abbiamo acquisito? Ad oggi allora ti posso dire che abbiamo acquisito sedici incarichi, ehm interessanti perché sono incarichi di immobili che sono situati, diciamo, in vari paesi, sempre principalmente nella zona che trattiamo in Ciociaria, ma sicuramente in paesi per i quali prima non avevamo un'attenzione, diciamo, specifica. Quindi paesi che stanno risultando per noi un nuovo canale molto interessante da poter, diciamo, valorizzare, come abbiamo fatto già per altri paesi, quali appunto Arpino, Isola dell'Iri, la Valle di Comino, Arce, Roccasecca, eccetera. Per quanto riguarda, diciamo, i numeri relativi anche agli incarichi in lavorazione, che sono, a mio avviso, estremamente importanti, abbiamo, ecco, circa una decina di incarichi che stiamo lavorando proprio in questi giorni e che probabilmente, se tutto va bene, dalla prossima settimana comunque entreranno. Si aggiungono a questi sedici. Si aggiungono a questi sedici, quindi anche incarichi, devo dire, abbastanza importanti. Per cui, se penso chiaramente al numero di richieste ricevute, avendo, ecco, tra virgolette, deciso di non portare avanti alcuni incarichi, ma semplicemente perché abbiamo avuto la possibilità, grazie al funnel, di scegliere se potevano, esatto, di selezionare se potevano essere adatti al nostro target o meno e ne abbiamo esclusi una quindicina. Quindi, eh, devo dire che il numero che è rimasto e che... Sarebbe potuto essere più alto ancora il doppio, praticamente. Sì, sì, esattamente. E quindi, ecco, i numeri parlano da sé, secondo me sono molto interessanti e credo che da qui, alle prossime settimane, potranno addirittura raddoppiare. Ottimo, quindi parliamo di sedici acquisizioni. Sì, acquisizioni. Sì, esattamente altri dieci da acquisire e diamo anche un dato numerico, posso... Certo, prego. ...di valore, quindi praticamente di quei sedici incarichi parliamo di un valore di un milione e mezzo di immobiliare, mentre quei dieci, mi stavi dicendo che la qualità si è alzata molto e parliamo di circa due milioni più... Esatto. ...altri ottocentomila, giusto? Esatto, quindi, sì, orientativamente per un totale di due milioni e ottocentomila euro, sì, in lavorazione. Quindi se questo chiaramente si aggiunge a quello che già abbiamo portato, come si suol dire, in ufficio a casa, il numero, secondo me, degli incarichi e soprattutto se dobbiamo quantificarlo è veramente interessante per quanto riguarda, ecco... Ottimo, ottimo, stiamo parlando quindi di quattro mesi e mezzo di campagna. Poi noi magari fra un anno faremo un altro video, sicuramente saranno cambiate... Molte cose. Molte cose, molte cose. Tutto questo a fronte di una spesa pubblicitaria che non diciamo, non lo diciamo, ma fa ridere. Cioè nel senso un budget... Minimo. Voi siete una grossa agenzia, nel senso voi siete un'agenzia che ha una determinata struttura, che fattura un certo... fa un certo fatturato. Però diciamo che l'importo che avete investito in ads, voi, se lo può permettere anche una piccolissima, piccolissima agenzia e abbiamo ottenuto questi risultati. Tanto è vero, tu mi hai detto... Poi sai, il marketer spinge se... Vede che la campagna va bene, dice aumentiamo, aumentiamo... No, 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 fermati, stiamo pieni a tappo, fermati. Sì, sì. Raccontaglielo un po' che cosa... che cosa mi hai dovuto dire. Ecco, ti ho dovuto dire qualche settimana fa, Francesco, aiuto, perché non so più come fare, per trovare delle disponibilità, non soltanto nella mia agenda, ma nell'agenda di tutto il team, per poter correre a incontrare queste persone. C'è stato un momento, ecco, esattamente a maggio, in cui ci siamo trovati davvero in una situazione incontenibile. La parola giusta è incontenibile e quindi abbiamo dovuto fare una riunione, soprattutto con mio padre e con le altre persone del team, per riorganizzare le priorità, perché a un certo punto era diventato tutto fuori controllo, quindi da un certo punto di vista sommersi dai lead, come si suol dire, nel vero senso della parola, il che è positivo. Non possiamo di certo dire che non siamo soddisfatti. Certo, è un problema che vorrebbero tutti. Però vedi, la cosa bella, poi io in questo video, caso studio, cerco anche di dare qualche nozione, la cosa bella del marketing è che quando imbocchi la campagna, capisci il metodo che devi applicare, ha incominciato ad avere una certa prevedibilità. Cioè tu con più serenità, magari non subito, ma dopo un anno, che sai che statisticamente hai X incarichi in più, tu non avrai problemi a dire, ok, prendiamo una, due, tre persone in più, perché tanto io il lavoro da dargli ce l'ho. Esatto. Quello che manca quando non c'è il marketing dietro è questa imprevedibilità, cioè non c'è prevedibilità, perché c'è un mese dove succede questo, ma poi il passaparola è qualcosa di spontaneo, cioè non è guidato. Assolutamente. Quindi non hai prevedibilità e questo non ti permette di crescere. Esatto. Beh, tanto per restare in tema crescita, oggi è stato il primo giorno di un nostro nuovo stagista nel team che è venuto appositamente per tre mesi a darci una mano, una mano concreta. E quindi chiaramente le esigenze cambiano, il team cresce, gli immobili aumentano drasticamente e vediamo cosa accadrà in futuro. Bene, bene. Dai, allora noi ci diamo appuntamento fra qualche altro mese, magari sarei diventata così grande, sarei comprata un pezzo di film in mezzo, non lo so. Beh, magari non poniamo limiti, dobbiamo sempre puntare in alto. Ok, ok, va bene. Allora, Claudia, io ti ringrazio e questa è una rivederci alla prossima puntata. Grazie a te, Francesco, per la disponibilità. Grazie a te, Francesco, per la disponibilità e a presto. Ciao, alla prossima. Ciao.